Giovedì 3 luglio 2014 ci troviamo a Roma presso l'acquario romano dove quest'oggi ha avuto luogo un convegno dedicato alla sostenibilità in edilizia dall'edificio al quartiere. Il convegno è stato organizzato da Action Group Editore con l'ordine degli architetti della provincia di Roma e di Roma. Oggi sono intervenuti tantissimi progettisti e architetti proprio per ascoltare i numerosi interventi di esperti e di imprese che hanno presentato case history e nuovi prodotti. Vediamo. Noi presentiamo tutta una serie di nuovi prodotti che abbiamo presentato ancora in aprile nel dicembre scorso, tutta una nuova serie a led per cui con un discorso del risparmio energetico, bassi consumi ma altre prestazioni luminose. Tutto nel rispetto del più rigoroso Made in Italy perché comunque siamo un'azienda che ci tiene a dirlo, produciamo tutto in Italia e tendiamo a usare anche materiali nuovi, alternativi, quali ad esempio il cemento, il legno e chiaramente materiali plastici che sono tipici della nostra realtà. Allora, l'ordine Action Group come al solito è sempre molto efficiente, anche oggi abbiamo una cinquantina di appuntamenti che ci sono già stati forniti, presi dall'organizzazione, più comunque c'è giù una serie di professionisti che si sta ricorrendo in continuazione al nostro stand espositivo per visualizzare le novità.